Lo so, anche il veicolo che vi porto oggi è un veicolo a tre ruote, ma a differenza di Aptera, che è un'auto, anche se può sembrare un aereo senza ali, questo veicolo è più simile a una motocicletta. Da qui il nome Archimoto. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi vorrei parlarvi appunto di Archimoto, ma prima di cominciare non scordatevi di mettere un mi piace e iscrivervi già al canale. Mi aiuterebbe davvero tanto a far vedere a più persone i miei contenuti. Archimoto nasce nel 2007 in Oregon, a Eugene per essere precisi, da Mark Frontmayer. Mark era un ex sviluppatore di videogiochi e dopo aver venduto la sua azienda di videogiochi, appunto, voleva comprarsi un veicolo elettrico. Ma nel 2007 le scelte erano molto limitate. Infatti, in una recente intervista disse che le scelte erano tra un golf cart e mettere una prenotazione per una Tesla Roadster di oltre 100 mila dollari. Ma nessuna delle due faceva al caso suo, perciò questo lo spinse a creare la propria azienda e la propria visione di mobilità elettrica. Andando così a creare, appunto, Archimoto. Il fatto che Mark Frontmayer, appunto, venisse da un passato di software non l'aiutò sicuramente a portare in commercio un veicolo. Infatti, all'inizio pensava ci volessero non più di sei mesi per portare il suo veicolo nel mercato, nella stessa intervista l'ha detto, quando in realtà ci sono voluti addirittura sette anni solo per arrivare al concept adatto per questo veicolo a tre ruote. Dopo dieci anni dalla sua fondazione, da fondi forniti dalle tasche di Mark, da amici e parenti, finalmente Archimoto riesce a quotarsi al Nasdaq con il simbolo FUV, che sta per Fun Utility Vehicle. Un po' come SUV, che è Sport Utility Vehicle, ma più divertente, come dicono loro. Oltretutto, FUV è anche il nome del veicolo di punta dell'azienda. Ma vediamo quali sono i veicoli che propongono ad Archimoto. Abbiamo, appunto, l'FUV, che è un po' il loro veicolo di punta, come dicevo. Il Deliverator, per le consegne di pacchi o di cibo a domicilio. Il Rapid Responsor, che è già in dotazione ad alcune caserme di vigili del fuoco in America, per, come dice il nome, avere una risposta rapida alle emergenze. E il Roadster, che assomiglia più a una tipica moto a tre ruote. Oltretutto, quasi mi dimenticavo, mentre scrivevo il video, del Cameo. È un'altra tipologia di veicolo che Archimoto ha tirato fuori ed è stato creato solamente per creare le immagini che state vedendo adesso. Infatti, in pratica, è un FUV base con il sellino dietro capovolto verso la strada per poter riprendere il retro del veicolo. Ovviamente l'utilità di questo veicolo qua è solamente indicato magari a truppe televisive o cinematografiche o massimo massimo degli youtuber. Ma il mercato è molto piccolo rispetto a tutti gli altri, ovviamente. Ecco, in questi veicoli, come delle auto, è possibile aggiungere degli optional, i quali sono le mezze portiere, il bauletto per porre le proprie cose con serratura, ma anche il volante e i sedili riscaldati, senza contare le innumerevoli combinazioni di colori che si possono creare dal configuratore sul sito di Archimoto. Infatti, è possibile scegliere un bicolore sulla scocca, un colore diverso per il telaio e uno ancora differente per il colore dei cerchioni. Tutte queste varianti sono basate sulla struttura dell'FUV, perciò si ritrovano ad avere tutti la stessa autonomia di 160 km e la stessa velocità di 75 miglia orarie o 120 km orari, dati anche dai due motori elettrici posti nelle ruote anteriori. Il prezzo per un FUV è previsto essere intorno ai 18 mila dollari base, mentre per le altre versioni non si sa ancora bene di preciso quali siano i prezzi. Quello che mi piace particolarmente di Archimoto è che sono onesti con se stessi e con i loro investitori. Infatti, se da una parte abbiamo delle case automobilistiche che buttano fuori dei numeroni e delle tempistiche che molto probabilmente non riusciranno a raggiungere, dall'altra parte abbiamo Archimoto, che sa bene che tipologia di veicolo sta vendendo. Sa che è un veicolo particolare e di nicchia e infatti non si aspetta di vendere milioni di esemplari di FUV. Infatti puntano a raggiungere una produzione annuale di 50 mila unità fra due anni. Personalmente penso che Archimoto, rimanendo con i piedi per terra, dia più confidenza a lungo termine ai propri investitori, sia pubblici che privati, per una relazione che magari possa durare molto di più negli anni. Per quanto riguarda il mercato a cui è diretto questo tipo di veicolo, penso sia facile associarlo a dei luoghi più vacanzieri, magari al posto del classico scooter. Ed inoltre alcune comunità in America stanno bandendo l'utilizzo dell'auto vicino alle case, favorendo magari l'uso di golf cart o comunque veicoli elettrici. E questo includerebbe anche appunto Archimoto. Ed infine penso che l'entrata nel mercato asiatico sia molto importante per Archimoto. Nel caso riuscissero a sostituire le due ruote motrici che sono avanti nel posteriore, riuscirebbero a prendere una grossa fetta del mercato indiano, thailandese, cinese. Mi viene da pensare banalmente i tuk tuk a Bangkok, che sono dappertutto bene o male. Ma prima ovviamente di entrare in quel mercato asiatico dovrebbero abbassare decisamente i prezzi e sembrare più appetibili per il mercato locale. Tra gli eventi più recenti che riguardano Archimoto abbiamo il raggiungimento di un miliardo di capitalizzazione nel mercato azionario grazie anche al rally azionario che c'è stato negli ultimi sei mesi, passando da azioni a 7 dollari fino a oltre 36 dollari. Adesso un po' in discesa. Poi abbiamo l'acquisizione di Tilting Motor Works che potrebbe davvero funzionare bene con la tipologia Roadster dell'FUV. L'acquisto di un nuovo stabilimento per la produzione che è cinque volte quello attuale. L'entrata a far parte dello Zeta o Zero Emission Transportation Association che ha lo scopo di accelerare la transizione verso una mobilità più sostenibile. Dentro lo Zeta possiamo trovare marchi come Tesla, Rivian, Enel X, Lucid Motors e tanti tanti altri. Ed infine abbiamo l'aggiunta al consiglio di amministrazione di Galileo Russell, proprietario del canale YouTube Hyperchange. Galileo è sempre stato un grosso sostenitore dell'azienda e ha dato sempre molti consigli ed infine è finito a far parte del consiglio di amministrazione. Archimoto è un'azienda che mi piace particolarmente e penso che meriti molta più attenzione di quella che gli viene data. Ma questo era tutto per oggi. Non dimenticatevi di farmi sapere con un commento qua sotto se pensate che l'FUV possa sostituire un po' l'idea normale dello scuterone che abbiamo un po' in Italia. In fondo non penso sia troppo diverso da un MP3 Piaggio. E mi raccomando non scordatevi di mettere mi piace e iscrivervi al canale. Grazie mille e al prossimo video!